Rosolini Fiamme Gialle sequestrano farmaci antitumorali e insulina guasti. I finanzieri della tenenza di noto, nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, hanno fermato un furgone al cui interno sono stati rinvenuti, tra gli altri, farmaci che per la loro particolarità, in quanto destinate a pazienti oncologici, diabetici o con gravi patologie, necessitavano del trasporto a cosiddetta temperatura controllata, nel caso specifico compreso tra i 2 e gli 8 gradi centigradi. Insulina, farmaci per il diabete antitumorali, sono questi i prodotti medicali sequestrati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, una volta verificate le difformi modalità con cui venivano trasportati. Questa cautela è necessaria al fine di non alterare e o inficiare le caratteristiche del principio attivo contenuto nelle medicine. constatato che il furgone non era coibontato e non era dotato di alcun sistema idoneo a salvaguardare la cosiddetta catena del freddo, durante il tragitto i finanziari sospettavano che potesse risultare compromesso il mantenimento costante del basso grado di colore e al fine di un immediato monitoraggio della situazione richiedevano l'intervento di medici appartenenti al servizio SIAV di Avola. Il personale sanitario intervenuto sul luogo attraverso l'uso di un termometro a sonda rilevava che la temperatura di trasporto dei farmaci era di 23,1 gradi, ben lontana pertanto dalla range 2,8 gradi prescritto, poiché non era stata preservata l'integrità dei medicinali, gli stessi sono stati i cosiddetti guasti e quindi considerati secondo quanto disposto dal decreto del Ministero della Sanità, datato 6 luglio 1999, linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano e dalle linee guida del 7 marzo 2013 sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano. Il reparto operante sequestrava quindi 270 dosi di prodotti e procedeva a segnalare alla competente autorità giudiziaria il rappresentante legale della società responsabile del trasporto, nonché il conducente del furgone, per la violazione all'articolo 443 codice penale e all'irrogazione di una sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro come previsto dall'articolo 148,13 del decreto legislativo 24 aprile di domenica 6 numero 219. L'operazione del servizio testimonia ulteriormente il ruolo strategico del corpo della Guardia di Finanza al contrasto di ogni condotta illecita che possa ledere gli interessi della collettività e la salute pubblica. Grazie.